ok tempo di studiare vediamo un po' matematica oh che noia oh non ci voleva proprio oh ma guarda un po' un telefono eh instagram arrivo oh meddio jessica tagliati quelle sopracciglia però però andrei assai buono eh ma cos'è che sto studiando esattamente scusa matematica oh madò selfie time beh dai andiamo un po' su facebook ehi geni depp però neanche tu scherzi mica eh questa è la sorella di michael no vabbè però non è male la devo assolutamente seguire su instagram adesso beh dai questo non si studia tanto non me lo chiede dai francesca adesso concentrati e basta su snapchat per andrea snapchat per le ragazze i'm so fancy ok ok basta adesso seriamente scegliamo nuovo outfit già che stiamo questo no questo non ne parliamo ma quanto cavolo sono ingrassata uffa diventa sempre più brutta e grassa qual è il punto perché nessuno mi ama meno male che c'è il cibo la mia vita fa schifo beh però ci basta a studiare dai tanto non mi interroga 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 a studiare dai tanto non mi interroga